Musica Delitto Luzzi, l'assassino in stato di fermo al carcere di Villa Fastigia a Pesaro, mistero sul movente, a Fossombrone, proclamato il lutto cittadino. A Sottomonte tra Pesaro e Fano è impossibile trovare parcheggio, intanto aumentano sempre più le soste selvagge di auto e scooter. Nel centro storico di Fano proseguono i lavori in Piazzale Rosselli, la prossima settimana verrà realizzata la nuova pavimentazione in continuità con Via Garibaldi, sabato intanto la giunta serie inaugura la rotatoria di Fenile. Eventi, musica e appuntamenti per tutte le fasce d'età, continua il ricco calendario di eventi estivi di Mondolfo e Marotta. Dal 22 al 29 luglio torna a Fano il Green Jazz Village, uno spazio dedicato ai concerti, aperitivi, esperienze yoga e attività didattiche rivolte ai bambini, il tutto all'insegna del jazz e dell'ecosostenibilità ambientale. Alma, punto e a capo, dopo l'addio alla Serie C, l'allenatore Scorsini richiede grossi investimenti per far ripartire la squadra. Una buona serata e benvenuti ad Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. In primo piano l'omicidio di Marina Luzzi, la donna uccisa con un colpo di pistola dal cognato Ieri a Fossombrone. E' ancora mistero sul movente, intanto domani potrebbe essere effettuata l'autopsia sul corpo della giovane mamma. E' ancora da chiarire il movente dell'omicidio di Marina Luzzi, la donna uccisa con un colpo di pistola dal cognato Andrea Marchionni, Falegname 47enne con veleità artistiche. L'uomo, subito dopo il gesto cruento, si è recato alla caserma dei Carabinieri di Fossombrone per costituirsi. Con sé aveva anche l'arma del delitto, una pistola semiautomatica da competizione regolarmente denunciata. Il tremendo fatto di cronaca è avvenuto in una villetta bifamiliare, nelle campagne di Fossombrone in via Pirandello. Marina Luzzi era geometra e lascia una sorella gemella, un compagno e una bambina di appena due anni. Marchionni, rea confesso dell'omicidio, si trova in stato di fermo nel carcere di Villa Fastigia, Pesaro, in attesa della convalida dell'arresto. Sul fatto indagano i Carabinieri della Compagnia di Pesaro e la Cucura di Urbino. Al momento si escludono motivi passionali, ragioni economiche e dissidi. La vicenda ha scosso la comunità di Fossombrone e nella serata di ieri l'amministrazione comunale ha emesso una nota proclamando il lutto cittadino. Ha un certo effetto sentire che c'è stato un omicidio a pochi passi. Molto, 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 perché ho detto, guarda, non capisco come è andato a finire il mondo. Anziana pulisce una tenda elettrica ma questa inizia ad avvolgersi e la signora rimane con una mano incastrata, sollevata da terra. È successo questa mattina intorno alle 11 in un terrazzo al terzo piano di un'abitazione situata in Viale Kennedy a Muraglia. Le urla della donna sulla novantina hanno allertato i muratori che stavano lavorando nelle vicinanze della casa. Dopo le cure del 118, l'anziana è stata portata in ospedale dove si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che, con un frullino, hanno dovuto tagliarle due anelli a causa delle dita gonfie. Sono stati eseguiti tutti gli assertamenti del caso, lastre comprese. Trovare parcheggio nella zona di Sottomonte, tra Pesaro e Fano, è praticamente impossibile. Per questo motivo aumentano sempre più le soste selvagge sulla strada statale 16 adriatica, un problema ormai noto che si aggrava nei caldi weekend estivi. Nei caldi weekend estivi la spiaggia di Sottomonte, tra Pesaro e Fano, è particolarmente affollata sin dalle prime luci del mattino. In questa zona, frequentata da cittadini e turisti, c'è un grande problema legato al parcheggio. Pochi posti disponibili e sul tratto della strada statale 16 non mancano soste sempre più selvagge. In questa zona quanto è complicato trovare un parcheggio? Estremamente, già dalle 9 e mezza della mattina è quasi impossibile. Infatti l'unica soluzione è la navetta a San Decenzio, se no anche con gli scooter assolutamente no, non c'è proprio posto. Purtroppo la strada è questa, i parcheggi non ci sono, per cui come ogni anno si ripete sempre la sua situazione. Non ce ne è un po' più i motorini che parcheggiano nei posti delle macchine, non ce ne è un po' più, ci dobbiamo fare una ragione per forza. Da quanto tempo sei in giro in cerca di un posto? Un'oretta, un'oretta e mezza già. Quanto è complicato trovare parcheggio in questa zona? Allora, con la macchina praticamente è impossibile, con lo scooter come vedo si fa fatica. Bisogna trovare insomma anche posti non pericolosi perché parcheggiare vicino agli stop quando poi si esce è un pericolo perché non si vede chi viene. È veramente una strada pericolosa, sì. Effettivamente io comunque senza scooter non ci verrei al mare. Il traffico sulla statale è obbligato a seguire un percorso centrale per evitare di urtare le tante vetture parcheggiate ai lati della strada. Attenzione anche ai bagnanti obbligati a camminare sul ciglio della strada per raggiungere la spiaggia. Non mancano i costanti controlli della polizia locale, ma quello della sosta selvaggia è un problema che si ripresenta ogni estate. Il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, ha comunicato che la fusione tra gli ex comuni di Colbordolo e di Sant'Angelo in Lizola ha portato un riconoscimento da parte di Stato e Regione di circa 20 milioni di euro di contributi. Dal 2014 ha sottolineato il sindaco la situazione economica e sociale del territorio è cambiata radicalmente. Tanti servizi e le opere realizzate grazie ai contributi come la costruzione della nuova scuola di legno in legno a Montecchio, le nuove aule del palesso scolastico in via Guidi, l'ampliamento della scuola primaria e dell'infanzia di bottega con a fianco la nuova palestra, nuove strutture sportive, piste ciclopedonali, nuovi impianti di pubblica illuminazione e nuovi asfalti. Inoltre sono stati realizzati un nuovo municipio, una nuova piazza e un nuovo teatro che verrà inaugurato a breve. Sono state ristrutturate le mura castellane ed eseguiti interventi di metanizzazione e depurazione. La fusione, ha detto Ucchielli, si è rivelata un'operazione brillante che ha portato e porterà notevoli benefici a tutta la popolazione. L'amministrazione comunale di Fano è pronta a tagliare un altro nastro. Sabato infatti verrà inaugurata la nuova rotatoria di Fenile. Sabato 29 aprile alle 9 di mattina inaugureremo la rotatoria di Fenile. Un intervento stradale molto atteso, naturalmente in una strada provinciale verso Carignano che si innesta con le intersezioni in via del Mulino dove appunto la velocità sfiorava gli 80 km orari da rilevazioni fatte ma soprattutto dove c'era la necessità di metterla in sicurezza vista la percentuale importante di incidentalità che appunto riguardava quel luogo e che sicuramente aveva bisogno anche di connettere in sicurezza la ciclabile che abbiamo realizzato ed anche illuminato con un nuovo tratto che poi è stato realizzato a ridosso dell'area del distributore e che connetterà anche l'area commerciale. Ecco, vedete bene che già da queste prime ore che è stata aperta, diciamo che da subito sia gli esercizi ma anche proprio gli stessi residenti ne hanno potuto godere dei benefici perché la velocità si è notevolmente ridotta e quindi come si riduce la velocità anche il pericolo. Sabato sarà una grande occasione, ricordiamo che siete tutti invitati, il quartiere, le attività, tutte quelle persone che anche in questi giorni di caldo hanno sopportato dei lavori in prossimità di quello spazio ma lavori che hanno portato dei disagi che sono passati perché l'opera resta. Intanto proseguono i lavori di riqualificazione di Piazzale Rosselli dove l'intervento procede come da cono programma e la prossima settimana verrà realizzata la nuova pavimentazione in Selciato in continuità con Via Garibaldi. Nascerà quindi una nuova piazza con una ruola rivista nella sua forma e dimensione e nuovi elementi di arredo. I lavori, ha spiegato l'assessore Brunori, si fermeranno da fine luglio per poi riprendere a fine agosto completando anche l'area di fianco al ristorante La Bella Napoli entro fine settembre. Dopodiché gli operai si sposteranno sui controviali di Viale Battisti. A Pesaro invece a partire dal 31 luglio, Strada Carloni subirà alcune modifiche alla viabilità per garantire la realizzazione della nuova circonvallazione di Muraglia, un'opera strategica per la città che andrà a completare la strada degli interquartieri a sud. Nello specifico dal 31 luglio al 6 agosto verrà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo nel tratto tra Via Giorgi e gli Orti di Muraglia. Dal 7 all'11 agosto verrà chiusa totalmente Strada Carloni con deviazioni in Via Fratti e Via Flaminia. Infine, dal 12 agosto al 30 settembre verrà istituito il senso unico e il transito sarà consentito da Santa Veneranda verso Muraglia. Chi procederà in direzione Muraglia-Santa Veneranda dovrà deviare sulle direttrici di Via Fratti e Via Flaminia. Diamo spazio alle vostre segnalazioni partendo da Poderino di Fano, da dove ci è arrivato questo video con il quale una residente denuncia gli schiamazzi notturni e i rifiuti lasciati in questo piccolo spazio di Via Lombardia. Tutte le sere e fino alla mattina non si riesce a riposare, ci ha scritto la reporter, c'è troppo caos. Io ho una mamma di 88 anni cardiopatica e non si può dormire con le finestre chiuse tra il caldo, gli schiamazzi e il rumore dei motorini. Chiedo che vengano presi dei provvedimenti. Invece nel quartiere San Lazzaro ci segnalano una centralina per irrigazione sempre in funzione nella piazzetta dietro Via del Ponte. Oltre al rumore continuo, anche di notte ci hanno scritto c'è il pericolo di surriscaldamento. Sarebbe stata avvisata la polizia locale. Ora agli eventi andiamo a Mondolfo dove proseguono i tanti eventi estivi fino ad agosto. Sentiamo nel servizio curato da Filippo Pucci i prossimi appuntamenti in programma. Mondolfo Marotta, la terra delle due vacanze in una, prosegue nel ricco calendario di eventi in questa stagione estiva 2023. Fin dal mese di giugno infatti sono diversi gli appuntamenti redatti dall'Ufficio Turismo e Cultura del Comune che si sono svolti con grande successo e soddisfazione. Uno tra i tanti lo dimostra la rassegna letteraria come un libro all'aperto ma anche altri eventi che si sono susseguiti dedicati a tutte le fasce d'età con animazioni, concerti e teatro. Il calendario prosegue con tante altre iniziative già da questo fine settimana fino ad arrivare alla fine di agosto. Proseguiamo con gli eventi, con il concerto di Nello Salza il 29 luglio a Mondolfo al complesso monumentale di Sant'Agostino. Avremo Max Paiella di Radio 2 in piazza del Comune a Mondolfo il 3 agosto. Poi avremo i concerti, i grandi concerti musicali, alla Molo Arena il Summer Paradise Festival con grandi ospiti tra cui Dargen D'Amico e Gaia ma anche tanti altri artisti il 5, 6, 7 agosto. Avremo l'8, il 9, il 10 e l'11 agosto il Maro 80 quindi il festival degli anni 80 in piazza dell'Unificazione dove qui anche qui avremo grandi ospiti come Ivana Spagna e Irighera ma anche il Gallo Team e poi il 12 e 13 agosto qui alla Molo Arena avremo il Marotta Acustica Festival organizzato dall'Associazione MAF di Marotta e poi concluderemo agosto con il Festival della Fisarmonica a Mondolfo che rappresenta una tradizione per il nostro centro storico e saranno quattro giorni di eventi dal 24 al 27 di agosto quindi davvero tante iniziative e siamo molto soddisfatti di questo ricco calendario che abbiamo presentato quest'anno. Come amministrazione comunale ci teniamo a ringraziare i tanti volontari e le associazioni del territorio che contribuiscono ad organizzare gli eventi e ad arricchire gli eventi del comune di Mondolfo e tutte le iniziative e il ricco calendario sono consultabili sul portale turistico dell'ente. Non solo musica ma anche uno spazio dedicato ad aperitivi, esposizioni e attività didattiche rivolte ai bambini. Anche quest'anno Fano torna ad ospitare il Green Jets Village sposando la causa della sostenibilità ambientale e dell'ecologia. Sentiamo il servizio curato da Stefania Bonomi. Allestito nei giardini antistanti la Rocca Malatestiana, il Green Jets Village è uno spazio non solo dedicato al jazz in tutte le sue sfumature musicali ma anche all'ecosostenibilità ambientale. Un progetto basato sui criteri ambientali minimi dell'ecologia che la città di Fano ha sposato facendosi interprete della valorizzazione, promozione e diffusione del proprio patrimonio artistico, culturale, ambientale, paesaggistico ed enogastronomico. Fano Jazz by the Sea è capofila di una rete nazionale di festival che si chiama Jazz Takes the Green e quindi si diffonde in tutti i festival che aderiscono questa vocazione, questa inclinazione ecosostenibile che significa adottare i criteri ambientali minimi, i cosiddetti CAM, cioè sono delle regole semplici alle quali i festival che aderiscono a questa rete devono ottenersi. Parliamo di questi CAM, questi criteri ambientali minimi, esattamente che cosa sono? Riguardano l'utilizzo, non l'utilizzo della plastica innanzitutto, l'utilizzo di materiali ecosostenibili, per esempio qui nel Jazz Village di Fano Jazz c'è un distributore di acqua già da tantissimi anni, gasata naturale come volete voi e questo è già un segno, poi appunto tutti i vari stand sono costruiti con materiali ecosostenibili. Perché i festival in generale non possono essere a impatto zero? Perché ci sono varie problematiche legate all'illuminotecnica, legate all'amplificazione, si cerca di ridurre questo impatto e questa è la cosa principale. Devo dire come esperienza personale che sono più di 25 anni che lavoro al festival Jazz qui a Fano e c'è sempre un clima veramente di condivisione, di concordia ed è veramente bello tra lo staff, i volontari, la direzione artistica, c'è un bel clima, questa è la cosa importante, è un clima che si è consolidato negli anni. Un punto d'incontro aperto a tutti, facilmente raggiungibile, caratterizzato da chioschi in legno serviti da corrente elettrica generata da pannelli solari dove si possono gustare prodotti di produzione strettamente artigianale. Tutti gli spazi sono dedicati a concerti, aperitivi, esperienze di yoga e altre attività didattiche rivolte ai bambini come il campus musicale e l'area baby friendly, incorniciata da immagini fotografiche a rappresentanza delle storie più belle e significative della manifestazione musicale. Il concetto fotografico è narrare cosa accade nella città di Fano collegata al jazz e della musica, quindi il mio ruolo è di cogliere quei momenti sia di musica e sia musica contestualizzata nella città di Fano. Le foto che vedete qui al village quest'anno è un estratto di un progetto che è stato preparato con Fano jazz, con Adriano, che poi verranno inseriti in un libro che racconteranno i 30 anni del festival e in una mossa fotografica a più ampio respiro che avevamo progettata, però quest'anno abbiamo deciso di fare una piccola anteprima, quindi c'è un grande progetto dietro. Giunto alla sua settima edizione, il Green Jets Village si rivela ancora una volta un cuore pulsante nel centro storico di Fano, a testimonianza del successo del Fano jazz by the sea nel nostro territorio. Delusione, sofferenze e sbarimento è questa la reazione che ha provato la società Fano Calcio alla notizia del mancato ripescaggio in Serie C. Lo ha confessato apertamente l'allenatore Marco Scorsini. Mentre tutta l'attenzione era rivolta al campionato dei professionisti, ora sarà più difficile ricostruire la squadra per la Serie D. Sentiamo l'intervista realizzata da Massimo Foghetti al mister Scorsini. Mister, non solo delusione ma oggettivi difficoltà ha creato la decisione del mancato ripescaggio dell'alma. Quali sono i termini della questione e come agirete? Sono state 48 ore difficili, dure, di sofferenza, di delusione e non ci aspettavamo questa mazzata che è arrivata alcune ore fa. In questo momento in Serie D tante prime scelte sono state già prese da società che hanno investito tanto, che hanno costruito per tempo e adesso noi dobbiamo entrare nel mercato, soprattutto nel mercato anche dei calciatori svincolati che possano darci quell'esperienza e quella completezza che in questo momento il mio gruppo non è. Quello che ho io in questo momento chiesto alla società è di poter entrare in un mercato molto attivamente e di avere la possibilità nel ritiro di frontone dove lì faremo le doppie sedute e inizieremo a costruire il nuovo Fano, avere perlomeno due o tre giocatori di esperienza che mi possano aiutare a costruire questo gruppo. Poi cammin facendo la continueremo ad aggiustare. E' fatto un appello anche a sostegno delle presidenti in modo che la società possa poi rinforzarsi anche dal punto di vista economico. Io dico che il presidente russo ha fatto in questi anni tantissimi investimenti, ha fatto un sacrificio enorme ma da solo secondo me non riuscirà a costruire una squadra adatta al blasone e alla città. Quindi io spero che qualcuno si avvicini al presidente, che qualcuno possa dare una mano al presidente perché in questo momento forse come non mai abbiamo bisogno di un aiuto. Ma mister cosa si aspetta dalla tifoseria? Per noi i tifosi sono il nostro dodicesimo uomo in campo, noi abbiamo bisogno di loro e se loro capiranno in questo momento che saranno loro forse un traino, forse in questo momento il traino più importante per saltare questo momento delicato, allora forse fra un mese potremmo tutti essere più sereni. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire il secondo speciale sulla festa della crescia matta e oca in porchetta registrato nella seconda giornata della manifestazione che si è svolta a Tre Ponti di Fano. E questa sera vi salutiamo con una foto pubblicata sui social da Gianni Morandi che immortala il cantautore con la titolare di un noto ristorante di via 4 novembre a Fano. Maria ha scritto Morandi nel post a 90 anni e cucina da 70 nella sua storica trattoria, una grande gioia per il palato. Vi ricordo che potete inoltrare le vostre segnalazioni al numero 338 49 68 250 oppure tramite il gruppo ufficiale Facebook Reporter di strada Baifano TV. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata. Grazie.